Allora, in questo video vediamo come si risolvono disequazioni o equazioni contenenti dei valori assoluti. Vedete il testo della prima. Qual è la procedura per risolvere tali equazioni o disequazioni? Beh, consiste nel trasformarli in altri equivalenti che non abbiano più il valore assoluto e per togliere un valore assoluto bisogna sapere se l'espressione all'interno è positiva o negativa. E come si fa? Studiando il segno. Di solito si studia la non negatività per convenzione, ma una volta studiata la non negatività automaticamente si sa anche quando sono negative. le tre espressioni della prima equazione sono 4 più x, x e 2 meno x, no? Tre espressioni dentro i valori assoluti. Quindi risolvendo le tre disequazioni vedete i risultati x più 4 è maggiore o uguale di 0 se x è maggiore o uguale di meno 4, 2 meno x se x è maggiore o uguale di meno 2 e x è maggiore o uguale di 0. Dopodiché sulla retta reale si rappresentano i cosiddetti capisaldi, cioè i numeri che abbiamo ottenuto risolvendo le tre precedenti disequazioni. Quindi si individuano gli intervalli. A sinistra di meno 4 abbiamo i valori di x che sono appunto minori di meno 4. Poi x compresa tra meno 4 e 0, meno 4 incluso, 0 escluso, x compresa tra 0 incluso, 2 escluso, x maggiore o uguale di 2. Sottolineo il fatto che predicato uguale per convenzione si mette nell'intervallo a destra del corrispondente estremo. Quindi vedete e a destra di meno 4 abbiamo l'intervallo meno 4, 0. Quindi l'uguale in corrispondenza meno 4 lo mettiamo lì. Idem, corrispondenza di 0 lo mettiamo in intervallo 0, 2 e così via. Fatto questo si riportano in ognuno dei quattro intervalli i segni delle espressioni all'interno dei valori assoluti. E 4 più x nell'intervallo x minore meno 4 è negativo. Idem x, mentre 2 meno x è maggiore di 0. E poi si fa lo stesso lavoro negli altri tre intervalli. Quindi si riscrive l'equazione in ognuno dei quattro intervalli togliendo il valore assoluto e ricopiando le espressioni all'interno del valore assoluto oppure ricopiando le cambiate di segno a seconda che nell'intervallo in questione rispettivamente siano non negativa o negativa. E in questo modo vedete le equazioni ottenute. Si risolvono. Una volta risolte bisogna controllare se le soluzioni ottenute sono o non sono accettabili e come si fa? Guardando se appartengono all'intervallo in cui l'equazione è stata risolta. Allora, nel primo intervallo abbiamo ottenuto 8 terzi che non è minore di meno 4 e quindi non è accettabile. Nel secondo abbiamo ottenuto 0 che non appartiene all'intervallo meno 4 0 perché in corrispondenza di 0 non c'è l'uguale. Nel terzo abbiamo ottenuto 0 e questa volta è accettabile perché nel terzo intervallo 0 c'è in quanto c'è l'uguale in corrispondenza di 0. Nell'ultimo la soluzione è 4 terzi ma 4 terzi è un numero minore di 2 e quindi non è accettabile. Passiamo alla seconda. Ecco, qui abbiamo un valore assoluto all'interno di un altro valore assoluto. Ho indicato con f di x l'espressione all'interno del valore assoluto per così dire più esterno, quindi è 2 meno valore assoluto di x. Allora, per risolvere questa equazione non è necessaria la procedura precedente. Perché? Beh, un valore assoluto, quindi in questo caso il valore assoluto di 2 meno il valore assoluto di x, quando è uguale a un numero positivo? Beh, quando l'espressione all'interno, diciamo f di x per intenderci, quando f di x è uguale a quel numero oppure quando è uguale all'opposto di quel numero. E dato che nel nostro esempio f di x è 2 meno valore assoluto di x, avremo le due equazioni, 2 meno valore assoluto di x uguale a 3 e 2 meno valore assoluto di x uguale a meno 3. E allora isolando il valore assoluto a primo membro, spostando tutto il resto al secondo membro, alla fine abbiamo le due equazioni. Valore assoluto di x uguale a meno 1, valore assoluto di x uguale a 5. La prima è impossibile, perché un valore assoluto non è mai negativo. La seconda invece ci dà le conclusioni, le soluzioni, x uguale o a 5 oppure a meno 5. Anche in questo terzo esempio procediamo come prima, però qua osserviamo che l'incognita x non può essere un numero negativo. Perché? Perché a primo membro dell'equazione c'è un valore assoluto e come è noto non è mai negativo. Quindi si impone che l'espressione dentro il valore assoluto più esterno, cioè 2 terzi y meno valore assoluto di y più 1, o è uguale a y, oppure il suo opposto è uguale a y, che è la stessa cosa che dire l'espressione stessa uguale a meno y. Dopodiché, come nel precedente esempio, si isola il valore assoluto a primo membro, si sposta tutto il resto a secondo membro. Alla fine abbiamo valore assoluto di y y più 1 uguale a meno un terzo y, oppure il valore assoluto di y più 1 uguale a 5 terzi y. E quindi, solita procedura, o l'espressione dentro il valore assoluto è uguale al secondo membro o è uguale all'opposto del secondo membro, ovvero l'opposto dell'espressione dentro il valore assoluto è uguale al secondo membro. E ottenete le quattro equazioni che vedete, che sono piuttosto semplici, si isola l'incognita primo membro, il resto secondo membro, si risolvono, ma delle quattro soluzioni trovate, solo tre mezzi è accettabile. Perché? Perché è l'unica che non è negativa. Passiamo a un esempio con le disequazioni, qua ho scritto ancora numero tre, ma in realtà il quattro. E la procedura quindi è sempre la solita, si studia la positività, anzi la non negatività delle due espressioni dentro i valori assoluti e poi se ne ricava anche l'intervallo in cui invece è negativa. Quindi si mettono sulla retta i numeri, capisaldi, si individuano gli intervalli e poi si riportano i segni delle espressioni dentro i valori assoluti nei tre intervalli. Quindi si tolgono i valori assoluti ricopiando le espressioni che stanno dentro o cambiandole di segno a secondo che siano non negative o negative e si ottengono le disequazioni che vedete. Gli intervalli che le risolvono sono accettabili solo se sono contenuti nell'intervallo in cui stiamo risolvendo la disequazione. Allora nel primo caso la soluzione ottenuta coincide con l'intervallo in cui stiamo lavorando, quindi è accettabile. Nel secondo caso otteniamo una disuguaglianza falsa, 2 non è maggiore di se stesso, quindi vuol dire che nell'intervallo in cui stiamo lavorando che è x compresa fra 3 incluso e 5 escluso, la disequazione non a soluzione. Nell'ultimo otteniamo x maggiore di 5 che appartiene all'intervallo x maggiore uguale di 5 e quindi è accettabile. Una volta fatto questo, se indichiamo con sd l'insieme delle soluzioni della disequazione e con s1 e s2 gli insiemi soluzioni nei due intervalli in cui abbiamo trovato delle soluzioni, beh la soluzione della disequazione è data dall'unione del senso issemistico del termine di tali intervalli e quindi è l'insieme dei numeri reali che sono o minori di 3 o maggiori di 5. questo dovrebbe essere il numero 5 non il numero 4 e anche qui solita procedura studiamo il segno delle tre espressioni. Ecco attenzione questa qua è un po' più complicata delle altre perché bisogna studiare ovviamente il segno di x meno 2 di x meno 1 ma anche di 2x più valore assoluto di x meno 1 che è all'interno di un valore assoluto. Le prime due si risolvono piuttosto facilmente. Per l'ultima dobbiamo ricorrere a due sistemi di disequazioni che li vedete indicati. Allora il primo, i sistemi sono piuttosto semplici da risolvere, il primo ha per soluzione l'intervallo x maggiore o uguale di 1, quell'altro l'intervallo x compresa tra meno 1 incluso e 1. Beh a questo punto per risolvere la disequazione 2x più valore assoluto di x meno 1 maggiore o uguale di 0 dobbiamo fare l'unione nel senso issemistico del termine di questi due intervalli. Quindi meno 1 minore o uguale di x minore di 1 unito a x maggiore o uguale di 1. Si ottiene un unico intervallo da meno 1 incluso in poi, quindi x maggiore o uguale di meno 1. Allora vuol dire che la disequazione 2x più valore assoluto di x meno 1 maggiore o uguale di 0 è soddisfatta per x maggiore o uguale di meno 1 e di conseguenza invece negativa, cioè 2x più 1, 2x più valore assoluto di x meno 1 è minore di 0 se x è minore di meno 1. Dopodiché si riportano sulla retta i tre capisaldi meno 1, 1 e 2 e nei quattro intervalli si riportano i segni delle tre espressioni dentro i valori assoluti e si tolgono i valori assoluti. Ecco, la prima, meno x più 2 meno 2x meno 2x e meno tonda meno x più 1. Perché? Perché nell'intervallo in questione 2x più valore assoluto di x meno 1 è negativo, quindi si cambia segno, si mette meno 2x e sarebbe meno valore assoluto di x meno 1. Ma in questo intervallo x meno 1 è negativo, quindi si toglie il valore assoluto e si cambia segno. Ecco spiegato il perché è parentesi meno x più 1 e analogamente negli altri intervalli. Dunque qua non ho concluso alla fine, mi sono dimenticato di mettere sd, ma sd sarà s1 unione s2 dove s1 è x meno uguale di meno 2 e s2 è x maggiore uguale di 2. Quindi sd è l'insieme dei numeri reali tali che x è meno uguale di meno 2 o x è maggiore uguale di 2. E il video è finito. Grazie.